Cos'è Pantry Trainer? Pantry Trainer è un'idea nata all'interno della prima Innovation Challenge di Deloitte che vuole ridisegnare un po' il business model di tutta la filiera agroalimentare, grazie a che cosa? Alla tecnologia RFID, una tecnologia radiofrequenza che mette in contatto il prodotto con il consumatore e allo stesso tempo migliora l'esperienza d'acquisto e la supply chain di tutti gli attori della filiera agroalimentare. Come oggi Pantry Trainer poteva inserirsi all'interno di Switch to Product e quindi di questa Innovation Challenge che si è evoluta? Sicuramente la nostra più grande difficoltà è stata quella di mettere a fattor comune le competenze di business con delle skill tecniche e ingegneristiche. Diciamo che partecipare ai tempi per Pantry Trainer e la Switch to Product poteva accelerare ancora di più l'idea quindi poteva dare la possibilità all'idea stessa di essere più veloce e di avere un time to market migliore sul mercato perché incontrare gente che di business ne sa come i dipendenti di Deloitte con le competenze accademiche e tecniche del Politecnico e del PoliHub era sicuramente un fattore critico di successo. Comunque è andata bene, oggi andiamo avanti, abbiamo i primi nostri clienti e speriamo di continuare su questa strada.